E' vero che l'HPV è responsabile di varie patologie? E' assolutamente vero. Per quanto riguarda le patologie benigne, la condilomatosi prima di tutto e la papillomatosi respiratoria. Per quanto riguarda le neoplasie invece, in primo luogo il cancro della cervice uterina e in secondo luogo il cancro della vulva, della vagina, dell'ano e del pene. Alcuni tumori del loro faringe sono peraltro anche addebitati all'HPV. Il papillomavirus può scomparire da solo dall'organismo? Sì, è vero. La maggior parte, soprattutto in età giovanile, delle infezioni da HPV tendono alla risoluzione spontanea, senza lasciare alcun esito. Questo è il motivo per cui in giovanissima età, diciamo, almeno prima fino ai 25 anni, è consigliato non intervenire se non in casi particolari. E' vero che il vaccino contro l'HPV è curativo? Il vaccino previene l'infezione da HPV, il vaccino non è terapeutico e quindi deve essere mirato a tutte le situazioni che necessitano una prevenzione piuttosto che una terapia. E' vero che non basta un solo rapporto non protetto per prendere l'HPV? Può essere invece sufficiente un solo rapporto perché la capacità di trasmissione della malattia è la più alta che si conosca in questo momento. E' vero che non esistono delle terapie contro il papillomavirus? Non esiste alcuna terapia reale contro l'HPV. Tutto ciò che possiamo fare è quello di fare una buona prevenzione, ovvero sia di fare la terapia delle manifestazioni dell'infezione da HPV. Quindi con la laser terapia o altre pratiche escissionali. Ma non c'è nessuna terapia antivirale. Il vaccino va fatto solo prima che la donna sia stata infettata dall'HPV? No, non è vero perché l'infezione nella maggior parte dei casi non lascia protezione. Quindi un conto sarà il programma di prevenzione nazionale per le 12 anni. Per le donne più adulte che hanno magari già avuto il contatto o già addirittura la malattia, la maggior parte di queste probabilmente non è protetta da nuovi incontri con il virus e quindi in questo caso ha senso la vaccinazione. Grazie a tutti.